Io non ho visto cali, cali grossi dalla squadra, poi se mi dici da dire come si chiama la rotta che dopo un quarto del secondo tempo, tra questo quanti anni ha? Però gli altri bene o male anche l'Emma, tognarsi così, vabbè, con due ruoli che non fanno molta strada, però vabbè, comunque un lavoro diverso, però anche loro... Siamo 10, eh? Eh sì, eh sì. Comunque tu hai, ascolta, hai comunque l'alternativa sempre di Samy lì, ne sbali, quello lì, puoi fare anche il centrale. Lo vediamo come terzino, poi loro lo possiamo sempre, comunque se l'Emma o Tognarsi hanno qualche problema, domani c'è il mercato. Ricordiamoci quello che abbiamo detto, che che marca lì si parte, oltre fuori dalla lunetta gli altri strani. Sì, sì, sì. Sì, però Norizzo li ha in panchina, no? E' quello lì, quindi... Eh, infatti, infatti, quindi se c'è... Le alternative, se c'è qualcosa a livello sui centrali, c'è sempre l'Emma sbali che può fare il centrale e uno dei due può fare il terzino. Quindi, beh, diciamo che alternative le hai sicuramente. Se l'Emma o Togni chiusino qualche problematica facendo due partite in tre giorni. Eh, sì. Ma, ma... Ma, Maurizio, noi andiamo là per vincere. Quindi, bene. Ci vediamo. Cuocco, qui. No. 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 Me. Grazie a tutti.